Cristian Fioratti, allenatore del Torino, parteciperai tu quindi a questa edizione del Gusella? Probabilmente sì, verremo con il 2002, cercando di fare più esperienza possibile, cercando di sfruttare questo torneo e vedere un attimino la crescita di queste ragazze. Il livello tecnico è altissimo? Il livello tecnico è molto alto, sì, ci sono squadre plasonate, squadre importanti, è bello affrontarsi con realtà straniere, spagnole specialmente, capire un attimino i loro meccanismi e vedere magari di dare qualche spunto per poter far migliorare anche la nostra faccia su tanti punti di vista. Perfetto, grazie mille. Grazie.